Chi non conosce Andrea Peressoni? Questa è una scommessa. Andrea Peressoni è un nostro concittadino di Coloredo ed è qui assieme a me adesso in Libreria Santa Caterina per presentarci o perlomeno per dirci alcune cose del suo bellissimo libro Mi piacciono tutte. Carissimo Andrea, perché hai fatto questo libro? Il perché non è una somma di perché. Da quando ho cominciato a viaggiare in moto ovviamente ho dovuto anche documentarmi. Il modo più efficace è quello di leggere, leggere le imprese di dei grandi viaggiatori, di chi fa reportage su viaggi, racconti e via di questo passo. Solo che tutte queste cose che leggevo, diciamo così, alcune erano davvero entusiasmanti, ma il più delle volte diventavano anche noiose, soprattutto per il fatto che il tono normalmente era autocelebrativo. Erano scritti con enfasi come volessero dare quell'importanza che forse magari non era il caso di attribuirsi e non leggevo mai come piacerebbe a me invece con stile leggero e anche autoironico. Nel frattempo avevo cominciato a scrivere qualcosa, qualche reportage, qualche breve articolo per una rivista che credo che tu la conosca, Biker's Life si chiama. E appunto queste cose che scrivevo, che sbacchiavo, erano improntate proprio su questi toni ironici, leggeri. All'editore la cosa è piaciuta e mi ha spronato, mi ha incitato a usare un po' di più. E quindi ho cominciato a estendere dei reportage più complessi, più lunghi, solo che nelle riviste, come ben si sa, ci sono sempre problemi di spazio, di impaginazione. Allora tutti questi reportage che con entusiasmo mi ero messo là a stendere, venivano tagliati oppure dimenticati nel cassetto e una storia e l'altra. Allora a un certo punto, mi dispiaceva perché ci tenevo, mi ero impegnato, è nata l'idea del libro proprio per raccogliere tutti questi reportage, soprattutto quelli che non sono stati pubblicati, ma anche quelli pubblicati però integrale, metterli assieme, legarli con un'introduzione, con un filo conduttore che motivasse la cosa, e legarli assieme tutti in un libro di biografia motociclistica. Ecco, questa è la genesi. In realtà il tuo linguaggio è molto scorrevole, molto corretto, complimenti, perché non è il tuo lavoro, credo, fare lo scrittore. Lo stile giornalistico veramente apprezzabile. Credo che tutte le persone che l'hanno letto, compresa chiaramente me, siamo stati seduti dietro il tuo sellino mentre tu ti piegavi in qualche salita di montagna. e devo dire che forse non lo sai, te lo sto dicendo adesso, che questo libro, che forse tu non avevi l'ambizione che volasse alto, di fatto viene letto in tutta l'Italia perché riceviamo domande un po' dappertutto. E quindi penso complimenti a te e buon viaggio a tutti quelli che vogliono veramente cimentarsi. Io immagino che, appunto visto che non è il tuo lavoro fare lo scrittore, non sia stato facile assemblare quello che ti veniva di getto dal cuore e quindi poi strizzarlo tutto in queste poche pagine. Ti volevo chiedere questo, assieme a te, questo è un libro fatto a due mani, a quattro mani, a sei mani, hai delle persone che ti hanno aiutato, sostenuto. Io sono arrivata alla fine del tuo progetto, per cui durante il percorso, senz'altro, oltre alla tua famiglia che ti ha seguito in queste gite, chiamiamole, anche se più impegnative, senz'altro ti ha aiutato qualcun altro, credo, no? Vuoi dirlo? Beh, la mia famiglia va ringraziata senz'altro perché loro mi assecondano sempre in tutto quello che propongo, sia esso turismo, motociclistico, mestiere, che tutt'altro. Appunto, siccome non è il mio mestiere scrivere, e non sono un letterato, anche se può sembrare facile, invece per me è stato faticoso perché ho dovuto impegnarmi nottate lunghe, nottate invernali, tante domeniche, a rivedere proprio quello che scrivevo con entusiasmo di getto, perché una volta che lo rileggevo non mi convinceva, non riuscivo a articolare il discorso in maniera scorrevole, per cui ho dovuto continuamente tornare sopra, limare, sfrondare, aggiungere, soprattutto il linguaggio, scegliere un aggettivo alla portata piuttosto che un aggettivo forbito, perché volevo rivolgermi al motociclista qualunque, il mondo del motociclismo è visto dal di sotto, dal di dentro piuttosto che dall'alto, per cui questo volere scrivere in maniera agile, come dicevo prima, autoironica, anche, come si può dire, sdrammatizzando le situazioni, mi è diventato faticoso, perché magari certi periodi che si slegavano, perché diventavano troppo importanti rispetto al resto, è così, e dai, ci ho messo davvero tanti mesi. Per l'aiuto, diciamo così, ho avuto due persone dietro di me, Aldo Lazzarato, che mi ha fatto la revisione del testo dal punto di vista ortografico, dal punto di vista anche concettuale sotto un certo aspetto, diciamo che... Ha seguito un po' la forma? Beh, in parte, perché la forma, io volevo che fosse proprio così, semplicissima, allora lui mi ha aiutato affinché riuscisse come io lo volevo, e Aldo Lazzarato è anche il revisore dei test di un amico motociclista famoso, Italo Barazzuti di Tolmezzo, e poi mi ha aiutato molto l'amico Marco Candotti nell'impaginazione, perché come sai, mi sono occupato di tutto, assolutamente, anche della grafica, dall'inizio alla fine. Certo. E Marco, con entusiasmo, si è messo lì tante domeniche mattina con me a impaginare, a curare tutte queste cose, anche lui non professionista, e quindi con tutte le difficoltà dei dilettanti, però alla fine, anche se non è appunto l'impaginazione professionale, è comunque efficace. È un bellissimo libro, invece, pieno di colore, con una bellissima grafica, e un'impostazione, direi, perfetta, insomma, degna di libri d'alta classe. Ti ringrazio. In Colorado, come chiamiamo affettuosamente Coloredo, il nostro paesello alla periferia di Udine, si contano poco più di 1200 anime. Non so quante biciclette, ma sicuramente meno delle moto. solo io e Luigino, mio cugino, ne mettiamo assieme varie decine. È un paese dove c'è sempre stata una consistenza presenza motociclistica. Forse, anche perché già da dopo l'ultima guerra, vi prosperava la rappresentanza della Sachs. Una volta, ho provato a stendere una specie di censimento, ma ho rinunciato, perché la cosa andava facendosi troppo lunga e complicata. I miei ricordi non vanno oltre il finire degli anni 70 e di allora mi sovengono rombanti laverda e ducati piuttosto che gli iso e le vespe. Poi, il boom dei cinquantini per i quattordicenni degli anni 70, i più grandicelli allora erano già attratti dall'auto, il nuovo oggetto del desiderio e punto di arrivo. Verso la metà degli anni 80 si è verificata una nuova primavera motociclistica, stavolta non più dettata dalle circostanze bensì da vera passione. Un bel gruppo di giovani ha incominciato a preferire la moto piuttosto che l'auto ed in paese se ne vedevano di tutte le taglie e di tutti i colori. I ritrovi fuori dal bar prima di un giro domindicale o del motoraduno del momento erano diventati usuali quanto la partita pallone. Anche allora il più gettonato era l'Elephant and Treffen in Germania a fine gennaio. I ragazzi erano cresciuti ma il seme era gettato. Da allora tra alti e bassi la passione si è diffusa serpeggiando fra le viuzze gli androni del paese contagiando gente di ogni età anche moglie e fidanzate. Essendo il gruppo degli appassionati motociclisti così numerosi ed eterogeneo è ovvio che si verifichino problemi di incompatibilità. C'è chi preferisce veloci ride dolomitici senza disdegnare qualche bella piega c'è chi se la gode con una gittarella tranquilla per frasche e sagre. In vano i primi provavano a spronare i secondi ad osare di più. All'ennesimo tentenamento sulla proposta di una meta maggiormente ambiziosa è allora che Sandro Gobo sbotta con la storica ma siete proprio dei budini molli. Non l'avesse mai detto tutti d'accordo è il nome che fa per noi bisogna farne il simbolo del nostro club che però non esiste ah se non esiste lo costituiamo subito seduta stante l'entusiasmo è alle stelle Spago la sera dopo arriva addirittura con il logo bello e pronto ce lo attacchiamo alla schiena come i veri club subito grande festa e si fa la cernita di chi può e chi non può entrarci ah niente scooter però Glauco vende subito la sua Majestic e compra la TDM ma con Celso come si farà? le numerose zavorrine sono le più eccitate per la novità e si autoproclamano convinte le budine molli spunta anche la proposta per un calendario sexy in stile bikers ma senza esagerare i più vecchi ed esperti come Squeaky e Durio si preoccupano di gettare acqua sul fuoco fanno presente tutte le problematiche legate ai back colors e alla difficoltà per l'affiliazione alla FMI ciò non toglie che al raduno dei motociclisti del paese visto che si tratta di una festa privata appaia qualche gilet con le pezze ricamate sulla schiena fortunatamente la cosa finisce lì per quanto riguarda la costituzione del club una gogliardata fra amici senza conseguenze di sorta va bene la moto ma fino a che non diventa una cosa troppo impegnativa ovviamente con il sopraggiungere dei problemi legati alla famiglia al lavoro all'età che avanza in effetti la fazione dei tranquilli ha avuto subdolamente la meglio così piano piano le gite sono diventate sempre più enogastronomiche piuttosto che turistiche e ancor meno sportive anch'io non disdegno qualche uscita alla buona ed in relax ogni tanto mia moglie con mia moglie ancora di più e poi sono gli amici di sempre prevale la simpatia e la serenità le fisime motociclistiche restano in secondo piano dominano i guzzisti ma il gruppo è decisamente trasversale aperto a tutti la storia del club mai nato però non è mai tramontata col tempo ci si rende conto che il nome risulta decisamente appropriato allo stile del gruppo i budini molli non un club ma un modo di essere motociclisti motociclisti